Il love bombing sembra veramente amore. Questo video è per tutte quelle persone che si affacciano a questi video per curiosità, senza essere diretti interessati di storie tossiche, di abusi di tale immensità. Ma sono altrettanto sicura che tutti coloro che invece ci sono passati potranno riconoscere e riconoscersi in ogni parola. Il love bombing sembra davvero l'amore. Se non fosse così, molte persone non cadrebbero e non finirebbero in questa trappola. Anche le persone più intelligenti, più brillanti, quelle più empatiche, generose e tenaci. Il love bombing non è quella fase in cui l'uomo narcisista o donna si presenta con mazzi di rose, fa regali, sorprese, organizza fughe romantiche, weekend d'amore, se non serve, se non fa nulla di tutto ciò. Questo è solo uno stereotipo che i più hanno, dell'uomo bello, di successo, che sa di avere il mondo in pugno, ma è in primis le donne in pugno. Come sempre, lo ripeterò e lo ripeto. Uso per comodità il maschile. Uso il se non serve, perché l'azione che il narcisista porta avanti per mesi, come per anni, è un'azione di rettimento della vittima, basata su misura per lei, in base a quelle, lui coglie essere le più intime esigenze. Se una donna ama il lusso, certo che si organizzerà i weekend anche a dispendiosi, ma non troppo, perché per antomasia il narcisista è tirchio, soprattutto se spendere soldi è legato a persone che non siano se stessi. Fa regali, si mostrerà il pavone luminoso, abiti firmati, se non sa un cappello fuori posto. C'è anche la donna, invece, che ama rimanere interi fine settimana in casa, a guardare serie tv, farsi le coccole e questo narcisista non solo le concederà, ma le farà anche credere che questa è stata proprio anche la sua stessa ambizione da sempre. C'è poi la donna che ama lo sport, l'avventura e così il narcisista con lei si mostrerà altrettanto amante di questo stile di vita ed organizzerà gite fuori porta, cercando di rafforzare immagini di lui uguali all'immagine di lei. Di esempi se ne potrebbero citare a migliaia, ma ne ho citati alcuni. Il concetto è più complesso del connubio al ratto love bombing, corteggiamento adulante. Il love bombing non è solo questo. Il love bombing è un'analisi precisa dell'animo e delle esigenze più intime della vittima, per infiltrarci, soddisfarne i desideri mai soddisfatti da nessuno, né da altri partner, né da parte dei genitori o amici o chiunque altro. Per splasmarsi ad immagini somminaglianza di tali esigenzi, di tali idee che la donna ha dell'uomo che vorrebbe al suo fianco ed è la vita che vorrebbe. Perché il narcisista agisce così? Perché così facendo fa perdutamente innamorare la donna, la quale gli permette di vivere attraverso l'immagine che gli rimanda di se stessa. La donna vede nel narcisista la perfezione e non quella ascettica, ma quella reale della sua maschera, quella perfezione cucita su di lei, avendo i pregi che lei ama ed anche gli immensi difetti, che però sono proprio quel tipo di difetti che lei ama, portandolo proprio ad amarlo per questo. Ciò che il narcisista vuole, l'uomo perfetto, che la donna vede in lui e allora il narcisista può permettersi di sopravvivere ancora perché questa nuova maschera funziona. Il narcisista solitamente ha tante donne, fidanzate, moglie, amanti, es compagni, tromba amiche perché ognuna di esse corrisponde ad una sua maschera che funziona e quindi ha diversi dispositivi di sopravvivenza in base al suo momento di vita, in base alle sue esigenze. Non è un caso che quando una donna smaschera il suo narcisista, lui o la scarta o la diffama o in qualsiasi altro modo l'attacca. Il narcisista agisce consapevolmente e inconsapevolmente nella bombing. Questa è la domanda che mi viene fatta. La risposta è dipende, ma il narcisista ha schemi mentali assetati, in un certo modo inscalfibile e non elastico. Il narcisista non ha un'essenza, non ha un sé, non ha una propria personalità, ma vive solo delle maschere e degli altri che apprezzano le sue tante maschere. Quando un uomo fiuta una donna così meravigliosa e avente tutto ciò che lui non ha, riprende vigore, un po' come un vampiro affamato che trova una donna ricca di succulento sangue. Stavolta sangue empatico e stravede per lei per porterla a risucchiare benvenino e quindi impossessarsene. Perché, vada bene, tu, vittima di un narcisista, sei stata dal primo giorno un suo possesso, la sua droga, quella droga che lui poi diventerà per te. Tu per lui sei un accessorio, un abito, un foulard di cui poi si stuferà e quindi ne sceglierà un altro. Ma nel momento che ti ha con sé, nel momento in cui tu sei nuova, nel momento in cui sei fresca e soprattutto in ottimo stato, non poi come lui ti lascia, ovvero totalmente esamine e priva di energia vitale, lui davvero stravede per te. Gli permette di vivere, gli permette di stabilire in lui la sua immagine di uomo più speciale al mondo. Anche se questo meccanismo tu non lo conosci e pensi che invece lui ti ami. Questo suo stravedere per te in questa fase non deve esserti di sollievo e non deve spingerti ora, che forse sei stata scartata o silenziata o rimpiazzata, a fare e a fare e a fare e cercare il video su come riconquistare il tuo narcisista per tornare a quella fase, perché quella fase non tornerà più. Se non per manipolarti ancora e annientarti ancora di più con nuovi e scarti, ancora più brevi e dolorosi, non è amore e abuso non è amore, è abuso. Una vittima che cerca l'amore deve fuggire altrove e deve smettere di cercare dove non potrà mai e poi mai e poi mai trovare. E comunque è vero che è estremamente difficile riconoscere un love bombing dal grande amore dalla propria vita. Sembra così incredibile ed invece è così. Non a caso si parla di violenza dell'anima perché per distruggere un'anima è necessario che chi vuole distruggerla ci entri dentro. Ed il love bombing è il biglietto di entrata ed è anche di permanenza. Sembra tutto così naturale, così perfetto che è difficile riconoscerlo perché sa riprodurre l'anima della vittima e di questo aspetto è sconcertante. Le parole che la vittima vuole sentirsi dire sono quelle giuste, la quantità di presenza che esige dal narcisista la riceve e dai più piccoli dettagli la vittima ha sempre conferme, i piccoli gesti, i sguardi, puntualità, gli sguardi e poi i discorsi profondi sulla stessa lunghezza d'onda di come la pensa la vittima. Tutto sta nella fusione totale del narcisista e della vittima. Narcisista e vittima sono due facce della stessa medaglia e si trovano dentro all'abuso. Solo col tempo la donna comprenderà che per lui non è altro che un dispositivo di sopravvivenza e le donne più speciali sono i veri nemici dei narcisisti, le vogliono, le conquistano ma poi non sanno accettare il loro essere migliore e allora devono distruggerle per stabilire il loro potere su di esse. Se non sei mai stato vittima di abuso narcisistico e stai ascoltando questo video come visitatore non giudicare le vittime perché non sono donne o uomini deboli, sono persone che hanno creduto ad un finto amore che sembrava così tanto amore che anche tu molto probabilmente avresti potuto caderci. Non cadere in una trappola simile è davvero complesso per chiunque ed è abbastanza automatico per tutti coloro che non conoscono nulla di narcisistico, di personalità. Se sei una vittima di abuso narcisistico non dimenticare che è stato sempre tutto abuso e tu non sei stata l'eccezione. Tutte le vittime di abuso narcisistico pensano di essere stata un'eccezione e che lui è stato l'unico narcisista al mondo ad averle amate seppur per quell'iniziale periodo. No, è sempre così. Ricorda, il narcisista non ha mai pensato al tuo reale bene, non ha mai pensato alle tue necessità di essere umano, ha sempre pensato solo a se stesso, non dimenticarlo mai. Soprattutto quando ti manca i ricordi di quei momenti lontani d'amore, ovvero l'amore non c'entrava nulla, mentre stai architettando qualcosa per farlo ritornare a quei tempi lì e magari sei gelosa della nuova fiamma che starà vivendo anche lei quella sensazione di amore da favola assoluta che lui è bravissimo a creare. Quando accetterai e crederai davvero dentro te stessa che questa è sempre stata tutta una o più o meno consapevole manipolazione frutto di un disturbo di personalità, automaticamente e liberamente ti libererai di questi rancori, di queste angosce e di questa affannosa ricerca a tornare a quel finto amore iniziale. Come non mi stancherò mai da dire, il love bombing non è amore, assolutamente non è amore. Se state vivendo una relazione tossica e avete bisogno del mio aiuto, dell'aiuto dell'ipnosi per uscirne, per riprendervi in mano, per iniziare un cammino di aiuto, contattami, vi lascio la mia email paolafendi.com, un bacio e al prossimo video.